benvenuti amici di mobile os quest'oggi stiamo provando l'asus t300 dispositivo che è davvero grande per realizzare video una specie di pannello per i video poi andremo a vedere meglio in recensione comunque questo è il video con il dispositivo proviamo a cambiare ecco un po la luce visto che oggi stanno con la giornata solata e proviamo a chiudere il nostro video come sempre con qualcosa di più ravvicinato quindi questo era il video con l'asus t300